Si pensa che la letteratura fantastica sia semplicemente la descrizione di mondi, di mappe, di trame, di colpi di scena. Il focus della letteratura fantastica è identico a quello della letteratura pretesa realistica, le emozioni degli uomini. In questa lezione vorrei raccontarvi di come la letteratura fantastica in realtà sia sempre riuscita a cogliere, da quando è nata, la realtà molto più della letteratura realista.